luke 43 16 ciao a tutti ragazzi sono luke e faccio questo mini video per dirvi che sono le 4 e 31 del mattino siamo in live in diretta sul canale di twitch come vedete ho due chat aperte siamo un bel po' di persone siamo esattamente in 42 forse anche un pochino di più e siamo anche in collegamento su skype vedete due facce qui euro 98 e kronos due gay no scherzo ragazzi tutti che salutano youtube nelle chat per cui salutiamo tutti non riesco a fare tutti i nomi ciao labbo che mi chiamate mancao che la torre su domenica con ciò di acopo gli atto dottor games ciao luca dubini quello che sono stati cronos video bottiglia di diretta vall ok ero euro di rivestire da pippo intanto come prima ok messo diciamo anche loro riparere come la mia vescica tipo nono che che invita ma una macchina del mio raggio bionicolo a te oggi ho fatto scoprire a tutti william raggi e andrea ragazzi tutti quelli della parte vi saluto tutti soprattutto faccio questo video perché alle quattro e mezza del mattino siamo arrivati a 18.000 iscritti precisi sul mio canale e il diciottesimo sono io e il diciottesimo e lui il diciotto millesimo e cronos comunque cronos quindi saluto qui simpaticissimo è il diciotto millesimo iscritto e poi abbiamo ragazzi che ci ha fatto pisciare sotto tutta la notte chiedevo antonio ma si è pisciato più lui sotto secondo me è il titolo chi Pippo e Pippo c'è il fantasma dietro di te Pippo stai attento al fantasma dietro di te ragazzi grazie a tutti per i 18.000 iscritti poi in Twitch siamo arrivati adesso lo faccio vedere anche qui nel canale di Twitch 2.800 iscritti e 100.000 visualizzazioni ragazzi veramente non so che dire vi ringrazio tutti sappiate che vi voglio veramente bene sono le quattro e mezza del mattino e noi siamo ancora in live è logico perché tutti noi abbiamo Luke soprattutto io euro ok ragazzi questi sono gay forti forti da Luke dacci un bacio diretto dai su hai spagato gli occhiali Luke per te da Luke e tutti quelli connessi in questo momento è tutto ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti dimmi ti voglia bene vado a cacare sì 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 sì